Cristian Dell'Orco, un pareggio 2-2 con l'Albino Leffe che ha lasciato un po' la mare in bocca nonostante il gol è arrivato al novantesimo che dà comunque soddisfazione Sì, per come si era messa nei primi 25 minuti della partita potevamo sicuramente chiuderla prima perché dopo l'1-0 avevamo in mano il pallino del gioco però alla fine del primo tempo sono usciti più loro alla fine per come si era messa la partita è stato anche un buon risultato il pareggio, almeno si è riuscito a fare i punti nonostante la squadra giovanissima tante assenze oggi, Cristian Dell'Orco però ha giocato anche da centrale un ruolo nuovo per te? Sì, non l'avevo mai fatto prima però secondo il mister avevo le caratteristiche adatte per impiazzare le tante assenze siamo passati in una difesa 3 all'inizio, facevo il terzo centrale poi con l'infortunio di Cinaglia siamo passati in una difesa 4 ho fatto anche il centrale in una difesa 4 però il mister mi vedeva bene secondo lui in quel ruolo alla fine è andata bene così Cristian tu sei appena tornato da un'esperienza importante la convocazione e la partita che hai giocato tutta peraltro contro l'Iran contro l'Iran con l'Under 20 di Alberigo Evani che sensazione ti ha lasciato questa esperienza? Sicuramente è stata una bella cosa perché è stata la prima convocazione in Under 20 che comunque inizia a essere una nazionale importante non che gli altri non li siano però comunque inizia a essere in un'età in cui conta il calcio spero di fare bene con la Feral Pistalò e vedremo se mi convocheranno ancora vedremo vedremo vedremo